Facciamoci aiutare dal genio della lampada. Immaginiamoci di percorrere un sentiero in un bosco e ad un certo punto di vedere scorgere in un cespuglio un'antica lampada d'olio, ma similissima a quella del genio della lampada di Aladino. Prendendolo in mano e provando a strofinarla, il genio esce dalla lampada e si rivolge a noi molto contento, felice della sua libertà e ci dice esprimi tre desideri e io li realizzerò, ma ad una sola condizione, che me li dici entro 15 secondi. Provate a pensare a tre desideri da chiedere. Siamo ad un punto. Ci siamo quasi. Il tempo è finito. Cavoli, non ho avuto abbastanza tempo, non sono riuscito a pensare veramente a quello che avrei voluto, ne ho detto uno, ho pensato uno, ne ho pensato due, non ne ho pensato nessuno. Questa è la risposta più frequente. Meno frequente invece sono le persone che dicono ah, li ho già detti tutti e tre. È molto importante sapere quali sono i nostri desideri ed esserne consapevoli costantemente, perché hanno la funzione di guidarci in quello che vogliamo nella vita. Se il genio della lampada ci avesse chiesto quali sono i tre problemi più grossi in questo momento, avremmo risposto velocissimamente, perché i problemi li abbiamo sempre presenti. Facciamo tre considerazioni. La prima è che se non sappiamo quali sono i nostri desideri, ci sarà difficile raggiungerli o comunque avvicinarci. La seconda è che di fronte a un limite, che sono i tre desideri, una delle scorciatoie che vengono a mente a noi mentali è quella di chiedere subito desideri infiniti, cioè avere più desideri da esprimere. Cosa vuol dire? Nella vita perdiamo a volte più tempo a discutere dei limiti che abbiamo piuttosto che a realizzare tutto quello che possiamo all'interno di questi limiti. Terza considerazione è che questo giochetto ci fa a volte prendere consapevolezza anche dei limiti mentali che ci autoponiamo. Ad esempio, se io ho chiesto di poter avere un appartamento, una casa, perché non ho chiesto un castello? Perché non ho chiesto una villa super mega galattica? Perché mi sono limitato? Oppure, se ho chiesto che vorrei avere dei rapporti sereni in famiglia, perché non ho chiesto di poter essere felice in famiglia? Questi limiti che noi ci diamo possono essere dovuti un po' alle mappe mentali di cui abbiamo anche un po' parlato in altri video e possono essere però qualcosa che ci toglie la possibilità di perseguire obiettivi migliori o più grandi. In ultimo faccio riferimento a un video che mi aveva molto colpito ed era una rubrica della Rai 2 sui motori e c'era un signore che era un esperto di guida sicura che insegnava come evitare un oggetto che ostruiva metà carreggiata di una strada. Aveva fatto la domanda alla presentatrice se lei vuole evitare quell'oggetto, che parte della strada guarda? La parte occupata dall'oggetto o la parte libera? Lui disse, l'errore è guardare la parte che vogliamo evitare. Dobbiamo guardare dove vogliamo passare, perché dove guardiamo andiamo. Questo è un principio validissimo, cioè se noi non ci orientiamo rispetto ai nostri desideri e alle cose che vogliamo ma ci orientiamo solo sulle cose che vogliamo evitare il rischio è di trovarci ad avere dei problemi rispetto alle cose che vorremmo evitare e quindi combattere con quelle invece di perseguire quelle che desideriamo. Quindi proviamo a fare questo esercizio, proviamo a concentrarci e aver sempre consapevolezza di quelli che sono i nostri maggiori desideri. Possiamo scriverne cinque e scriverceli e ricordarceli ogni giorno che noi vorremmo realizzare quelle cose, vivere quelle cose. Se ti vengono in mente degli spunti o hai dei commenti da fare li puoi scrivere qua sotto al video e se questo video ti è piaciuto lo puoi condividere con i tuoi amici e se vuoi puoi sempre iscriverti al canale.